Buonasera ragazzi, bentornati su Crypto Salad, io sono Federico, oggi è venerdì 30 aprile 2021, oggi facciamo ragazzi un rapido aggiornamento sull'andamento del prezzo di Bitcoin, perché stiamo assistendo nelle ultime ore in particolare ad un interessante rialzo, Bitcoin si riporta al di sopra dei 57 mila dollari in questo momento. Quindi ragazzi guardiamo un po' la chart, vediamo quali importanti livelli di resistenza questo pump attuale ha in qualche modo violato, quindi guardiamo la chart, guardiamo il gap che c'è sul CME che potrebbe portarci direttamente in zona 62 mila dollari, poi ragazzi guardiamo anche la chart settimanale per vedere un po' come sono messe le medie mobili più importanti che rappresentano supporto per questo bull market. Quindi ragazzi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per ricevere le notifiche e lasciate i vostri messaggi. Ragazzi velocemente qua siamo sul time frame giornaliero, giornata molto positiva in questo momento per Bitcoin, riconquistiamo i 57 mila dollari ma soprattutto andiamo a violare la resistenza del livello pivot, quindi il principale livello di resistenza del mese di aprile, tra poco parliamo anche del pivot del mese di maggio in arrivo nelle prossime ore e lo stesso livello che ci aveva fermato ormai tre giorni fa è stato violato da questo pump rialzista, quindi ci riportiamo al di sopra del livello pivot che si trovava a 55 mila, 150 dollari all'incirca e ci spingiamo anche al di sopra di questa trend line di resistenza discendente, praticamente creando uno scenario molto simile a quello che abbiamo visto a mio avviso con il ritracciamento che c'è stato nella seconda metà del mese di febbraio. Per cui vedete qui abbiamo un massimo storico a febbraio, un ritracciamento, un recupero, una sorta di doppio minimo più alto rispetto al precedente e poi una ripartenza con violazione di questa trend line discendente. Bene o male lo stesso scenario si è verificato con il dump che abbiamo visto appunto nel mese di aprile, per cui un massimo storico, un ritracciamento, un recupero, un secondo minimo più alto rispetto al precedente e poi successivamente la violazione di questo livello di resistenza discendente. Quindi le cose sembrano mettersi bene per Bitcoin. Se ragazzi guardiamo i livelli di ritracciamento di Fibonacci per capire quello che potrebbe essere il primo, il prossimo livello di resistenza per Bitcoin, quindi un livello dove Bitcoin potrebbe fermarsi perlomeno provvisoriamente, vediamo che dal massimo al minimo raggiunto qualche giorno fa di 46.800 dollari e quindi abbiamo il più importante livello di resistenza lo 0.61 che si trova in corrispondenza dei 58.000 dollari, quindi mi aspetto che nella sua risalita Bitcoin si fermi perlomeno temporaneamente in zona 58.000 dollari. Se ragazzi guardiamo questa linea qui orizzontale che vedete sulla chart è invece il livello pivot del mese di maggio, per cui il mese in arrivo e di conseguenza il fatto che Bitcoin riesca magari a chiudere la giornata attuale, la giornata odierna al di sopra di questo livello è in qualche modo una conferma che il prossimo mese parte decisamente in maniera rialzista. Guardiamo poi ragazzi la chart del CME, quindi notiamo che c'è questo gap molto grande che il prezzo ha lasciato, un gap che va da più o meno il livello in cui ci troviamo adesso, per cui 57.500 dollari, fino ai 62.100 dollari all'incirca, quindi un gap molto grande che Bitcoin sembra ormai prossimo a voler iniziare, perlomeno a riempire. Si tratta addirittura di un gap praticamente direi doppio, perché abbiamo anche in precedenza un gap che si è formato sempre sullo stesso livello, quindi chissà che possa attrarre in maniera molto importante il prezzo nelle prossime ore. Se ragazzi poi guardiamo la chart dal punto di vista settimanale, per avere un po' di prospettiva, intanto ragazzi è molto interessante vedere come si presenta su scala lineare il bull market 2017, per cui quello che vedete qui è il bull market e bear market del 2017-2018, vedete che praticamente sembra insignificante rispetto all'attuale bull run, questo mostra come sia importante visionare le chart in particolare su time frame molto ampi sulla scala logaritmica. Però questo è il bull market del 2017, questo è il dump che abbiamo visto a marzo scorso, per cui praticamente insignificante rispetto agli attuali ritracciamenti che stiamo osservando durante il mercato rialzista e se zoomiamo un po' vediamo che in questo momento Bitcoin sta riconquistando questa linea arancione, questa media mobile delle 10 settimane, che per adesso è stato un importante punto di supporto durante questo bull market. Quindi credo che sarebbe incoraggiante per un'eventuale continuazione rialzista la chiusura settimanale al di sopra dei 54.800 dollari, quindi una chiusura che va a riconquistare questa media mobile. Se guardiamo la linea verde invece in arrivo è la media delle 20 settimane, per cui supporto forse ancora più importante rispetto alle 10 settimane, che in questo momento è salita ormai in zona 46.000 dollari all'incirca. Questo a mio avviso è l'ultimo supporto del bull market, quindi se dovessimo iniziare a perdere questo livello, a mio avviso potremmo aspettarci un po' a sorpresa la conclusione del bull market. Quindi solo nel caso in cui dovessimo perdere la media mobile per magari diverse settimane, la media mobile delle 20 candele settimanali. Quindi ragazzi per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, grazie per la vostra attenzione e vi auguro un buon weekend, a presto, ciao!